ciao e benvenuti alla stupenda giornata di lunedì e alla nostra voyager cup stupenda perché ieri è stata una serata ricca di emozioni e come potete vedere dal mio look da un omaggio ultra azzurro quasi ad accecare allora parliamo di spostamenti in europa lo avete già sentito nelle altre voyager cup però ci fate sempre questa domanda posso andare in spagna posso andare in grecia posso andare a malta cosa c'è di aperto ho sentito dire che tutto chiuso sentito dire che chiudono tutto allora attenzione bisogna sempre andare a scavare nella notizia perché la spagna è grande ad esempio e ad oggi per proprio parlando di uno stato vicino a noi dove si può andare a fare la vacanza soltanto la catalogna ha messo delle limitazioni per cosa per andare nei locali notturne tipo nelle discoteche ma le limitazioni sono soltanto per chi non ha praticamente green pass oppure chi non vuole fare il tampone all'ingresso perché per entrare in una discoteca tipo barcellona ad oggi è necessario fare il tampone prima di entrare nel locale e in altre aree invece dell'europa tipo in grecia la mascherina nei locali è richiesta quando si entrano nei locali tipo nei negozi e così via ma invece l'aperto no il portogallo con lisbona e porto ha ridotto gli orari per la sera ovvero c'è una specie di coprifuoco notturno a determinati orari ma soltanto in quelle zone lì malta ha limitato l'ingresso per i cittadini per i turisti soltanto a chi è vaccinato infine il regno unito come abbiamo potuto vedere ieri sera dalle immagini in televisione ha dato praticamente il via libera a tutti quindi senza mascherina e anche i locali sono nuovamente aperti anche i pub e passiamo ad altre notizie tipo quella dell'estate 2020 su dove andranno gli italiani e su quanto staranno gli italiani in vacanza allora secondo un'indagine di conf turismo l'anno che l'anno 2021 è un anno un po di ristrettezze economiche gli italiani vanno in vacanza sì ma faranno vacanze brevi quindi le due settimane sono diventate una rarità su 15 milioni di italiani che andranno in vacanza 10 non hanno ancora deciso dove andare e inoltre la vacanza è un pochettino più corta pensate che chi starà via per non più di una settimana sul campione degli intervistati è passato in un mese dal 51 al 60 per cento quelli che invece faranno più di 11 giorni di vacanza si sono ridotti dal 17 al 12 per cento quindi vedremo come andranno le prossime mesi io dico sempre che conti li faremo a settembre concludiamo parlando di emirates la compagnia aerea degli emirati arabi che ha deciso di riprendere i voli per Mauritius come sapete la meta ha riaperto anche se con delle limitazioni dal 15 di luglio quindi la 380 famosa due piani l'aero a due piani andrà a a Mauritius con riaprendo questa rotta ricordo che se andate a Mauritius cosa che non si può fare dall'italia perché in questo momento c'è un limite di uscita dal paese che non sia della comunità europea me lo lo continuiamo a dire ci continuano ci vengono a ricevere un sacco di chiamate per gente che vuole andare tipo in sud america però attenzione perché non è possibile in questo momento se non ci andate per i motivi medici di ricongiungimento familiare oppure distretti motivi lavorativi è probabile che nei prossimi giorni verranno anche aumentate le restrizioni negli aeroporti e Mauritius ricordo che dal primo di ottobre invece darà la possibilità a tutti i turisti anche di girare l'isola mentre ad oggi chi ci va può stare solo esclusivamente all'interno dell'albergo non può andare in giro si fa a suo mare ma non può andare a fare un giro per il paese per così dire questa era l'ultima notizia per la Voyager Cup del lunedì un lunedì azzurro devo dire la verità e vi ricordo che se volete farci domande potete farlo qua qua sotto su youtube su naturalmente instagram su facebook su google su twitter dove noi siamo e vi mandiamo naturalmente offerte ma anche immagini e dove riceviamo le vostre immagini che pubblichiamo per delle vostre vacanze appunto sui nostri social vi ricordo che io Fabio Francesca Giada Elena siamo a vostra disposizione per le vacanze 2021 e anche quelle 2022 2023 2024 e infine vi ricordo che le nostre notizie le trovate su voyagertraveler.com invece le offerte su voyager125.it ma chiamateci 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 e naturalmente condividete questo messaggio a tutti grazie e alla prossima Voyager Cup ciao